Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Partito dal momento 5 stelle, il tema del caro benzina, come viene gestito questo argomento da parte del governo, da parte del ministro Urso? Intanto diciamo che è stato appena detto, il tema delle accise è un tema ormai strutturale, ormai qualunque tipo di governo ci sia è diventata una tassa che assicura un gettito fisso che è in questa fase economica estremamente importante. Il punto è se tu illudi gli elettori promettendo che toglierai questa tassa. L'illusione prima delle elezioni è un vizio italiano e può anche starci, ma che il vice premier Salvini appena qualche settimana fa, qualche giorno fa abbia detto che se la benzina arrivava a 2 euro si sarebbe intervenuti dà proprio il senso dell'imbroglio che viene fatto verso i cittadini e gli elettori. Su questo è stato più chiaro il ministro delle attività produttive Urso che ha spiegato l'altro giorno candidamente che di tagliare le accise o ridurre il prezzo della benzina sulla componente, diciamo, tasse, imposte, accise, non se ne può parlare. Il punto è lì un altro ancora. Diceva giustamente il professore su queste politiche strane che oggi permettono alla destra di raccogliere il voto da una parte e dall'altra, dal vecchio elettorato e da quello più istituzionale. Che politiche economiche fa questo governo? Dice di fare politiche liberiste tradizionalmente a favore della piccola impresa, il piccolo commerciante, il piccolo imprenditore e poi parallelamente, contemporaneamente, fa politiche di tipo pesantemente statalista. Pensiamo all'impegno che è stato preso per rinazionalizzare la rete della telefonia, la rete che oggi è di telecom, tra l'altro una rete che è stata svenduta per due soldi dallo Stato e che oggi lo Stato si sta ricomprando mettendo miliardi e miliardi. Sul tema delle accise in particolare, questo è un governo che appena qualche giorno fa, in totale disaccordo tra le forze politiche della maggioranza, ha deciso di tassare gli extraprofitti delle banche. E poi parallelamente, ora, raccoglie extraprofitti dai cittadini, dagli automobilisti che stanno pagando la benzina di più, dando anche più IVA e quindi maggiore tassazione e su questa non intende far nulla. Ma allora così è troppo facile, prendere i voti imbrogliando le persone nel silenzio generale, perché, ripeto, di queste cose ne parliamo stamattina qui, se ne sente parlare in qualche programma, qualche giornale, ma poi per questo c'è un silenzio di tomba. Questo è veramente un fatto estremamente grave. C'è da questo punto di vista la volontà, da parte di alcuni esponenti della maggioranza, lo dicevo anche stamattina, dell'idea di comunque intervenire usando proprio questi soldi in più che arrivano dall'accise per cercare comunque di calmerare. Creare un credito d'imposta, si sta parlando di questo, cioè sostanzialmente per le banche, che ad esempio si tassano sugli extra profitti e poi gli si restituiscono. Non ho chiesto... Questo è veramente furto con destra. Non ho chiesto a Benedettini, invece per quanto riguarda questo...